Ciao, mi chiamo Mario, ho 51 anni, vivo a Torino e ho una forma progressiva di sclerosi multipla. Vivo da solo, ma non sono solo, grazie al Centro Diurno Sociosanitario di AISM. Qui ogni giorno posso fare esercizi fisici adatti a me, insieme ad operatori e ai miei amici. So che il Centro è nato anche grazie a un lascito testamentario, è stato un gesto di grande generosità. Per me il Centro è un punto di riferimento. Vi faccio vedere qualche foto. Come potete vedere qui sono in piscina dove vengo tutti i giovedì, con gli esercizi in acqua posso migliorare la mia condizione fisica. Questa è una piscina speciale, con attrezzature fatte apposta per noi. Qui sono in palestra dove vado tutti i giorni per mantenere la tonicità di braccia e gambe. Ed è anche grazie a queste attività che la sclerosi multipla non mi ferma. Dopo tanto lavoro, finalmente un po' di relax insieme. E poi a tavola. Questo è il pulmino che ogni giorno mi viene a prendere e mi riporta a casa. Gli stessi volontari che al mattino mi accorgono sono quelli che poi mi vengono a prendere e mi riportano a casa. Al centro ho conosciuto tante persone, ma c'è un amico, forse il più importante, a cui non posso fare una foto, ma che ha tanto spazio nel mio cuore. E' la persona che con un lascito ad AISM ha contribuito alla nascita del centro e ha aiutato AISM a cambiare il mio futuro. Con un lascito anche tu puoi essere futuro e permettere alla ricerca di trovare quella cura che ancora non c'è. Il futuro delle persone con sclerosi multipla non è scritto. Lo puoi scrivere anche tu con un lascito ad AISM.